Donare un farmaco a chi ha più bisogno affinché non sia costretto a dover scegliere se curarsi o mangiare. Questo l'obiettivo della giornata di raccolta del farmaco organizzato dal Banco Farmaceutico. Fino al 15 febbraio si potrà andare nelle farmacie della provincia di Frosinone, che aderiscono all'iniziativa, e acquistare un farmaco per i più bisognosi. In tutta la provincia tante le associazioni e le realtà coinvolte, con il supporto anche della Croce Rossa. Donare un farmaco perché? Perché nessuno debba più scegliere come è la campagna e il motivo di quest'anno se comprarsi da mangiare o decidere di curarsi, vista la difficoltà enorme, aumentata anche in maggior ragione quest'anno con la pandemia, del provvedere alle spese sanitarie di ciascuno. Sono 16 farmacie aderenti in provincia, l'elenco delle quali è consultabile sul sito bancofarmaceutico.org. A causa della pandemia, quest'anno più che mai è necessario tutelare la salute di tutti. Dopo la pandemia abbiamo riscontrato che le esigenze economiche purtroppo si sono ridotte per tutti e purtroppo sono aumentate quelle che sono le sacche di povertà. E quindi quest'anno io ritengo che sia particolarmente importante aderire da parte della gente a questa iniziativa del Banco Farmaceutico. Diversi i farmaci da banco che si possono donare? I farmaci che noi consigliamo di donare, ecco, sono questi alle mie spalle, sono praticamente i farmaci per gli sciroppi per la tosse, gli antiacidi, ci sono gli antipiretici perché poi insomma i bambini con la febbre stanno in tutte le famiglie, quelle che stanno bene ma purtroppo anche in quelle che stanno male, e fermenti lattici. Quindi c'è una grande varietà sulla quale potersi orientare. L'obiettivo è fare sempre meglio e superare i numeri della raccolta dello scorso anno. L'anno scorso abbiamo raccolto più di mille farmaci, quindi un dato veramente importante per la nostra provincia, con un controvalore anche molto molto importante. Quest'anno il numero delle farmacie è vero che si è mantenuto simile allo scorso anno, però il fatto di avere una settimana per donare può dare ancora più occasione a tutte le persone che entrano in farmacia di aumentare i farmaci da raccogliere. Quindi ricordo che la campagna settimana di raccolta del Banco Farmaceutico va avanti fino a lunedì 15 febbraio, quindi avete ancora dei giorni per potervi recare in farmacia ad acquistare un farmaco.